Vuoi realizzare un primo piatto facile e veloce insieme a me? In una teglia metti i pomodori, il sale, il pepe, l'origano e l'olio. Quindi aggiungi l'aglio, le olive, il basilico e mescola bene il tutto. A questo punto aggiungi la feta. Inforna ora a 180 gradi per 20-25 minuti. Mescoliamo e formiamo una cremina. Aggiungiamo ancora dell'origano, il basilico e adesso la pasta. Aggiungiamo la pasta. E mescoliamo. E che bontà! Buon appetito a tutti! Ciao! Ciao!